Dexter, tu sei uno dei più grandi youtuber italiani, come si fa a diventare come te? Passione e tanto, tanto, tanto lavoro, ma soprattutto passione ragazzi, il cuore e l'animo. Questo è un punto di arrivo o un punto di partenza? Ovviamente un punto di partenza, ogni traguardo è solo l'inizio, lo dico sempre ai miei iscritti e ai miei follower, quindi questo è un punto di partenza, insieme ai miei iscritti possiamo andare verso l'infinito ed oltre. Grazie, ciao. Grazie a tutti.